Per Normilano24 siamo qui con Andrea Mandelli, il responsabile dell'ufficio marketing della BCC di Sesto San Giovanni. Allora BCC pensa alle imprese? Sì, abbiamo messo in campo un'iniziativa che in questo momento va in controtendenza, nel senso che il Consiglio di amministrazione ha deciso di fare in modo che questa azienda che ha nel suo DNA l'interesse per il territorio, le vicinanze all'impresa, lo faccio in modo concreto. Abbiamo stanziato un plafond di 10 milioni di euro, 5 milioni di euro verso gli associati Confapi Lombarda Fide che è un consorzio di garanzia e 5 milioni di euro attraverso un'erogazione agli associati di associazioni imprenditori Nord Milano. Con l'associazione imprenditori Nord Milano stiamo lavorando in un modo molto proficuo e molto collaborativo anche perché l'associazione Nord Milano ha stretto un'alleanza degli accordi con altre associazioni del territorio. Cosa finanziamo? Sostanzialmente finanziamo i progetti di investimento e di sviluppo che le imprese vogliono mettere in campo. In questo momento l'iniziativa che poi abbiamo chiamato Una mano per la ripresa vogliamo proprio far capire alle imprese che noi ci siamo e dare quell'input a fare in modo che le imprese possano iniziare a produrre e svilupparsi in modo particolare anche con forme di finanziamento speciali non solo legate al finanziamento ma ai contratti, al factoring, al leasing, quindi forme che servono all'incremento e allo sviluppo dell'azienda. Un aiuto concreto che va soprattutto verso la piccola e media impresa. Cosa devono fare concretamente gli imprenditori? Gli imprenditori si possono rivolgere o alla loro associazione di categoria, quindi come dicevo Confapi Lombarda Fili, oppure all'associazione di imprenditori Nord Milano, le quali associazioni convoglieranno e comunicheranno alla BCC di Sesto e all'ufficio marketing che ci sono degli imprenditori interessati a sviluppare nuove linee di credito, verranno messi in contatto con i responsabili delle filiali. Una cosa importante da dire è che questi finanziamenti, questo plafone è dedicato alle PMI dei territori dove noi abbiamo le filiali, quindi nei nostri comuni e in tutti i comuni limitrofi, perché noi abbiamo competenza non solo dove abbiamo le filiali ma in tutti i comuni limitrofi. Quindi noi metteremo in contatto gli imprenditori interessati, troveremo la filiale più comoda, a loro più vicina e faremo dei collochi con i responsabili dei filiali. Grazie mille, arrivederci. A voi.